I dati diffusi alla vigilia della giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro scattano una fotografia allarmante. Li firma l'osservatorio Vega Engineering di Mestre che ha mappato tutto il paese e afferma che dal 2018 al 2021 in Italia ci sono state 4.713 vittime con un aumento degli infortuni mortali del 40%. Un dato che attribuisce al Molise la più alta incidenza rispetto alla popolazione, al contrario nelle regioni con popolazione lavorativa più numerosa come il Veneto, nonostante il numero di infortuni gravi l'incidenza di mortalità si mantiene tra le più basse. Per fasce d'età emerge che il maggior rischio di mortalità lo occorrono gli ultra 65 anni, sono i giovanissimi invece ad infortunarsi in modo meno grave più spesso. La disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nel nostro paese c'è ed è esaustiva, spiegano dall'osservatorio ma occorre applicarla con maggiore formazione dei lavoratori e contemporaneamente più ispezioni e sanzioni.